La boutique del pane, pane caldo dal 1956 Continua la battaglia del consigliere comunale Massimiliano Di Matteo per risolvere l'intricata questione inerente all'impiantistica sportiva della città metelliana. Uno dei temi di interesse principale, al momento, è la questione relativa ai campi sportivi periferici di San Pietro e di Santa Lucia. Benché l'attività sportiva sia ripresa, come evidenziato da un sopralluogo dei tecnici comunali competenti, richiesto dallo stesso Di Matteo, le strutture non sarebbero ancora a norma ed i necessari interventi di adeguamento da realizzare sarebbero stati portati a termine solo in minima parte. Già in consigliere comunale, come hai detto, abbiamo avanzato una raccomandazione a seguito del sopralluogo effettuato sui campi di Santa Lucia e San Pietro. Avevamo ricevuto comunicazione dell'apertura, dell'inizio dell'attività del primo settembre e avevamo sentito il dovere di valutare realmente se gli interventi fossero stati eseguiti e se c'erano tutte le norme di sicurezza per gli impianti. A seguito della relazione che mi è stata smessa dal dirigente con l'Azio si è evidenziata la nostra preoccupazione, cioè che sia soprattutto il campo di Santa Lucia non è a norma e quindi bisogna necessita di acquisire tutta la documentazione in materia di sicurezza per evitare possibili situazioni di pericolo ai fruitori della stessa. I due impianti sono ancora senza autorizzazione per poter iniziare i lavori, quindi non è stato fatto nulla all'interno delle strutture dal 2013 ad oggi, se non piccoli interventi di pitturazione, di manutenzione ordinaria. È paradossale che, nonostante l'esistenza sul territorio di impianti di una certa levatura, gli sportivi di una città come Cava dei Tirreni siano costretti a spostarsi altrove per allenarsi. Basti pensare che anche la Cavese, a breve, trasferirà la sede dei suoi allenamenti a Mercato Sanseverino. La delicata situazione è la conseguenza delle negligenze e del continuo procrastinare provvedimenti che sblocchino lo stallo attuale. È evidente che la situazione deve essere presa in mano dal dirigente in maniera concreta perché soprattutto mi sembra che per l'impianto di Santa Lucia manca addirittura il passaggio presso la Commissione Locale del Paesaggio. Il tempo non viene perso soltanto dalla società che devono gestire gli impianti ma anche dallo stesso ente proprietario. Riteniamo che in questo caso la parte politica, cioè l'assessore dello sport, debba intervenire in maniera immediata.